Euroregione News A Gorizia una provincia da Oscar La provincia di Gorizia vince l'Oscar di bilancio 2014 delle pubbliche amministrazioni, importante riconoscimento che colloca l'amministrazione guidata da Enrico Gerghetta ai vertici nazionali nella redazione del proprio bilancio e di conseguenza negli investimenti e nella rendicontazione dei soldi pubblici. Presidente, cosa vi ha permesso di svettare sul podio? Sicuramente la proiezione europea del bilancio è fatta uno secondario perché abbiamo continuato a mantenere un bilancio sano in una situazione, come posso dire, nazionale molto complicata. E avete ritirato il premio a spese vostre? Esatto, in mezzo è una gran bella soddisfazione. Siamo andati in tre, io, l'assessore e il presidente di commissione e ci siamo pagati interamente il viaggio da soli, tanto per essere chiari che non siamo andati via a fare la cittarella a Roma, prima perché non è un suo stile, ma perché mi sembrava anche un atto di serietà nei confronti dell'attuale situazione, un momento economico. Però vogliamo esserci, quindi poi ho detto, guarda, vogliamo esserci perché una occasione così non ti capita mai più nella vita, però ce la paghiamo da soli, così non assumo tutto e niente. Potete ascoltare l'intervista integrale su euroregionegnews.eu Avete ascoltato Euroregione News